La regolamentazione dei mercati di libero scambio è stata al centro di tre ordini del giorno discussi dal Consiglio regionale del Piemonte. Approvato a maggioranza, quello proposto come primo firmatario dal capogruppo di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, sottoscritto dai gruppi Lega e Forza Italia, che chiede alla Giunta regionale di modificare la normativa in vigore sul commercio ambulante, eliminando la parte introdotta dalla passata amministrazione che esclude l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale dal rispetto delle norme che regolano le vendite occasionali su area pubblica. È fondamentale perché fissa il principio che non devono essere tollerate zone franche nel commercio non professionale, parlo di quello abusivo, quindi mai più Suc a Torino ma neanche nel resto della regione Piemonte. In pochi giorni è stato sgomberato e è stata riportata la legalità, lo stesso deve avvenire nel Suc perché abbiamo avuto moltissime segnalazioni di cittadini che lamentavano di fatto reiterati atteggiamenti di illegalità. Respinto invece è l'ordine del giorno che voleva salvare i mercati di libero scambio presentato dal consigliere Marco Grimaldi di Liberi Uguali Verdi e sottoscritto dal gruppo del Partito Democratico. Se si pensa diciamo di punire quegli abusivi che lavorano lì dentro, che provano a infiltrarsi abolendo una legge non capiscono che non si fanno così le leggi, è come dire che se c'è la criminalità organizzata dietro al grande mercato libero bisogna abolire le leggi che le regolamentano, bisogna fare più controlli e evitare di confondere la povertà col degrado e soprattutto con l'illegalità. Respinto anche l'atto di indirizzo che aveva come primo firmatario Domenico Ravetti, presidente del gruppo PD, che era incentrato sulla correttezza della delibera a dicembre 2018 contestata dall'ordine del giorno di Maurizio Marrone. La povertà non si aburisce per decreto, non si aburisce togliendo le norme della passata legislatura. Il tema vero è che dobbiamo diffondere sicurezza, dobbiamo diffondere legalità. mettere in circolo normative che possano essere applicate dalle amministrazioni comunali e possano essere attivati tutti i controlli in sicurezza.